buongiorno andrea felice niente stiamo facendo allora qua curva secca a destra stiamo facendo rally secca a destra secca secca no aspetta guarda qui niente per raggiungere oggi andrea adriana all'hotel a snigo a cernobbio impegnativa la strada quindi magari adesso lasciamo guidare il buon sezmacher andrea camion camion tira qua tira il freno a mano secca 90 gradi a destra vai forse arriviamo a dopo lo stai facendo e oggi ciò fa vedere che bel tavolo da colpa che mi parte hai rubato il carrello e camerieri fai vedere cararo facciamo questa perché piace a lui gli incubi scontate poi che non lo facciamo dall'oratorio non lo facciamo Per una volta non la canto io. Ciao, noi stiamo tornando a casa belli, lucidi, sta venendo su il diluvio universale appena in tempo. Ciao, grazie ragazzi, è stato un matrimonio bellissimo, bello, fresco, mamma mia. Andrea, Adriana, grazie mille, ci siamo divertiti tantissimo. Adriana! Ciao!